E ora diamo spazio alle vostre segnalazioni. In seguito alle forti piogge di questi giorni, sotto passo autostradale di Rosciano a Fano, questa mattina si è nuovamente allagato, rendendo impraticabile la strada che da Via Papini collega alla nuova strada di Via Sirani. Alcuni automobilisti, come vedete da questo video, sono riusciti da attraversare il tratto, mentre altri hanno preferito fare marcia indietro e cambiare itinerario. La strada, poco dopo, è stata chiusa al traffico per alcune ore. Una situazione che va avanti ad ogni abbondante pioggia, segnalano diversi cittadini e residenti, e che ancora oggi non ha trovato una soluzione. I tombini, realizzati a lato della strada, non riescono a contenere l'acqua, perché otturati dalla terra e dalla vegetazione che finisce al loro interno. Serve fare qualcosa, scrivono, per evitare ogni volta questo annoso problema.